ciao ragazzi ci troviamo nel romponghi il questa mega sottatura non sai che può essere ma sembra un ragno guardate che bello qui dietro c'è una mega televisione alle mie spalle è un mega centro commerciale in mezzo come centro commerciale guardate fino a dove arriva un palazzo in mezzo di negozi ma poi c'è dappertutto guardate un cascato ora entriamo e vediamo cosa ci offre ci vediamo ciao ciao